Gavel è un'azienda veneta che sita vicino alla Pedemontana a Bassano del Grappa, nasce da lì e nel 1956 dalla passione di mio padre grande sportivo nel 95 abbiamo ampliato le gambe dei prodotti passando anche a prodotti per l'outdoor e quindi lo scialpinismo, il trekking e l'ultimo arrivato è il nordic walking. La gamma di prodotti che la nostra azienda produce ricopre come dicevamo prima tutte le esigenze con percentuali di carbonio che vanno dal 100 all'85 e al 50% quindi dedicato a master trainer o a persone molto attive. Sono dotate di un particolare sgancio del passamano che con l'indice si riesce con una mano a togliere e si riesce a reinserire molto comodamente. Poi sono anche dotabili di queste particolari luci dove quindi noi riusciamo anche a effettuare le attività durante la sera e per una questione di sicurezza si riesce ad essere più visibili avendo una luce davanti e una dietro. Nell'ambito del trekking abbiamo sempre gruppi sia nel trekking che nell'alpinismo quindi sempre prodotti telescopici che sono sostanzialmente dedicati all'utilizzatore professionista. Quindi riusciamo ad offrire per l'outdoor una gamma completa però sempre nell'ambito di una specializzazione. Pertanto anche nel nostro sito si possono trovare delle user guide che indicano e danno dei consigli precisi a seconda dell'utilizzo del prodotto.